Le associazioni della costiera amalfitana continuano a mobilitare l'opinione pubblica con una petizione online per chiedere di impedire almeno i megabus di passare in costa da Amalfi, perlomeno quelli superiori agli 8 metri, stoppare i trasporti pubblici locali fantasma e mettere la ZTL estesa all'intero percorso utilizzando bus più piccoli e meglio adatti alla tortuosità della strada, parcheggi scambiatori per il trasbordo. Il documento delle 8 associazioni promotrici, diffuso in italiano e in inglese sulla piattaforma change.org, chiede di risolvere il problema traffico per l'estate che si appresta ad arrivare attraverso la regolamentazione degli accessi. Ma intanto la vicenda, già l'attenzione delle massime autorità di governo, ha già messo in moto anche la classe politica. L'onorevole Gigi Casciello di Forza Italia ha portato il caso all'attenzione dei ministri con un'interrogazione al Ministro dell'Ambiente, della Salute, delle infrastrutture e trasporti, dei beni e attività culturali, per sapere quali iniziative e quali misure di intervento intendono assumere per la soluzione delle problematiche della costina amalfitana, in particolare per i disagi dovuti alla viabilità e all'attraversamento dei pullman Gran Turismo. Il parlamentare Azzurro ha chiesto anche l'istituzione di un tavolo permanente fra comuni, province, regioni e ministeri per l'adozione delle azioni necessarie per superare le criticità. Luca Cascone, vicino al governatore Vincenzo De Luca, come presidente della commissione trasporti, ha polemizzato invece col deputato forzista Casciello per aver osato dar voce parlamentare alla sottoscrizione attraverso un'interrogazione a risposta scritta indirizzata ai ministri. Sulla mobilità in costiera amalfitana ben vengono le proposte, ma da quanti conoscono lo stato dell'arte, no annunci ad uso elettorale, ha rimarcato Cascone, precisando che è stato finanziato dalla regione un piano infrastrutturale importante che grazie all'ausilio di Sua Eccellenza il prefetto di Salerno esiste da mesi un tavolo permanente tra prefettura, provincia, comuni, ANAS, sindacati e regione ed anche aziende di trasporto che svolgono i servizi TPL minimi e residuali. Si sta lavorando su questa proposta con la prefettura, proprio oggi abbiamo un altro incorto su questa 163, la statale amalfitana, perché si sta pensando in sinergia con la regione campana e con la prefettura di organizzare un senso unico per i bus per evitare i disagi che sappiamo. Si sta lavorando perché bisogna mettere d'accordo i tanti sindaci, perché poi loro devono fare le ordinanze sui propri territori e stiamo coordinando per avere minori disagi questa stagione, questa stagione turistica che si prevede comunque importante in provincia di Salerno, in Costira e stiamo appunto tenendo continui riunioni con la prefettura, con la regione campania tramite il consigliere Cascone che si occupa di trasporti, anche perché bisogna coordinare anche tutti i trasporti locali, oltre che quelli di autorizzazione regionale. Un lavoro che sta coordinando la prefettura, il prefetto russo e contiamo di risolvere la problematica nei prossimi giorni, ma cerchiamo anche di sentire i sindaci, gli albergatori, le loro idee, i loro pensieri. È evidente che realizzare un senso unico per i bus in una direzione potrebbe essere una soluzione che nello stesso tempo ci consente di far arrivare tanti turisti con le auto, con mezzi propri in Costira e nello stesso tempo consentire al trasporto pubblico di proseguire il proprio lavoro di accompagnamento di turisti in Costira Amalfitana. Bisogna trovare una soluzione diciamo buona per tutti.